Un saluto a tutti dal Criticone, eccomi qui con un prodotto che mi è stato inviato dalla ditta DB Power si tratta come vedete di un drone, un drone a 6 assi quello che potete vedere già dalla scatola sono le caratteristiche elencate come vediamo qui c'è la funzionalità del giroscopio abbiamo 1K Return che sarebbe un tasto che ci consente di richiamare il drone FPV che sarebbe la funzione che ci consente di vedere in prima persona direttamente dalla telecamera tramite il nostro smartphone una telecamera montata direttamente sul drone, lo vedete davanti alla punta abbiamo la possibilità di scambiare le manette destra o sinistra nel caso siamo mancini poi abbiamo una batteria da 3,7V e 750 mAh una rete 2,4GHz che ci consente di interfacciarsi con il nostro smartphone per farci vedere la visuale della telecamera il 3D Flips presente in tantissimi modelli di drone infine abbiamo il Searching Light che sarebbero delle luci che ci consentono di vedere dove si trova il nostro drone infine il Trot All Limit Button che ci permette di regolare la potenza del nostro drone e permetterne meno oppure di più tenete conto che è un drone di piccole e medie dimensioni quindi non è un drone di quelli diciamo enormi e può stare sia indoor che outdoor a questo punto direi di cominciare a sballarlo per vederlo dal vivo in sezione troveremo questi oggetti che vedete quindi il drone che è eccolo qui poi troveremo delle eliche di riserva nel caso si dovessero rompere questo è il telecomando in un libretto di istruzioni in inglese e poi troveremo questo oggetto qui che è un è praticamente un supporto che ci consentirà di agganciare il nostro smartphone direttamente sul telecomando dunque si dovrebbe agganciare in questa maniera qui questo che vedete è il supporto e innanzitutto precisiamo il fatto che non le trovo eccole sono presenti due viti non so se riesco a mostrarvele in ogni caso sono presenti ecco forse così si vedono sono presenti due viti uno e due con queste viti noi potremmo aprire meglio il supporto per farlo entrare qui dentro una volta che questo è inserito avremo questa placchetta che si apre da questa parte qui ci consente di mettere lo smartphone si può mettere qui e la possiamo mettere in maniera tale che la vedremo in questo modo qua adesso la monto così al volo per mostrarvelo ecco andrà collegata così in modo che potremo giocare guardando direttamente qui la telecamera del drone nella parte frontale troviamo la videocamera che è situata esattamente qui non so se vedete questo buchino è la telecamera qua sotto invece abbiamo l'antenna questa qui che serve per trasmettere la rete da 2,4 gigahertz e infine c'è il vano batteria il vano batteria vediamo se riesco ad aprirlo è proprio sotto l'antenna eccolo qui e al momento non è presente la batteria perché indovinate un po' perché ce l'ho in carica e adesso la vado subito a prendere ce l'ho qua stiamo a me questa è la batteria di cui vi parlavo è molto piccola come vedete e ha questo tipo di spinotto un po' strano perché se non siete abituati se non avete altri droni diciamo non siete abituati a vedere questo tipo di attacchi così piccoli eccolo qui questo è l'attacco che vi permetterà di alimentare il drone abbiamo questo piccolo cavetto troviamo il verso adatto tanto il verso è uno soltanto quindi non ci possiamo sbagliare andiamo a riporre la batteria qua dentro il bana forse si mette così vediamo perfetta ecco qua ho trovato il modo per inserirla e andiamo a rimettere dentro tutto per poter chiudere allora una cosa importante quando chiudete questo sportelletto assicuratevi che sia ben chiuso deve fare lo scatto perché se non fa lo scatto c'è il rischio che durante il volo vi si apra e di conseguenza potrebbe perdere stabilità il drone e iniziare a volare tutto storto allora eccolo qui il nostro drone allora è un drone a 6 assi abbiamo visto sulla scatola che significa? allora 6 assi significa che questo drone potrà volare nelle 6 direzioni ossia su, giù, sinistra, destra, avanti e indietro oltre a fare questo avrà la possibilità di ruotare anche verso sinistra, verso destra e ovviamente di fare come avevamo detto prima il flip 3D che verrà effettuato nel seguente modo girerà in questa maniera qui fino a tornare dritto ovviamente quando effettuerà questa operazione perderà quota quindi vi conviene farlo circa un metro sopra quanto dovrebbe arrivare nel senso che se noi non vogliamo che il drone tocchi terra conviene essere almeno a un paio di metri d'altezza perché poi quando farà il flip nel momento in cui è sotto sopra si troverà a circa un metro più sotto di quando l'ha iniziato spero di aver chiarito bene questo funzionamento al di là di questo andiamo intanto a vedere come si fa a calibrarlo allora per prima cosa va acceso mettendolo su on inizieranno a lampeggiare queste luci a questo punto subentra il nostro telecomando che vediamo se riesco a farvelo vedere completamente perché vedo che non entra in inquadratura qui è il telecomando il telecomando possiede due levette che ci consentono di effettuare i quattro anzi gli otto movimenti possibili poi abbiamo qui sono presenti dei trimmer i trimmer cosa fanno sono quattro esattamente allora i trimmer cosa fanno ci consentono di poter calibrare il nostro veicolo nel caso non dovesse girare correttamente ossia mettiamo che io adesso lo accenda inizio a volare ma vedo che il mio drone va in diagonale verso questa direzione dovrò andare a interagire su questi trimmer su questo e su questo e dicendogli di scendere di andare esattamente nella direzione opposta dove va il drone in questo modo correggerò il tiro facendolo rientrare levemente fino a far sì che una volta acceso resti sospeso in aria o comunque che sia al centro questo mi aiuterà poi a utilizzarlo allora per quanto riguarda invece gli altri tasti allora abbiamo questo che è lo switch power on e power off e queste levette di lato ci consentiranno di cambiare l'assetto di queste qui ossia questi switch hanno tre posizioni su al centro e giù e quello in basso ci consente di muovere la levette e lasciarla ferma in un certo punto e quello al centro e quello su ci consentiranno di muoverla e farla ritornare al centro però c'è una differenza tra i due ovviamente che quella centrale mentre io lo muoverò sentirò dei piccoli come dei piccoli ostacoli sentiremo sentite questo rumore si sentiranno tante piccole tacchette che ci aiuteranno a capire effettivamente di quanto stiamo aumentando o abbassando la potenza e in ogni caso io lo lascio sempre nella posizione più bassa per comodità e allora per quanto riguarda invece per quanto riguarda invece questa questa rotellina qui questo trimmer scusate questo dimmer questo dimmer qui serve per regolare la quantità di potenza che vogliamo dare al drone ossia se lo giriamo tutto da questo lato avremo la potenza piena quindi lo potremmo far veramente schizzare in aria fino ad altezze assurde se invece lo abbassiamo lo regoliamo al minimo di conseguenza mettendo la manetta a pieno non arriverà ad altezze esagerate ma rimarrà molto basso allora invece io direi una via di mezzo allora quanto riguarda invece questi due pulsanti questo qui ci consente di cambiare l'assetto dei comandi per beginners o per advanced nel caso avessimo già preso la mano perché in effetti non ho dimenticato di dirvi che questo drone non è così facile da comandare anzi è piuttosto difficile io non ho mai controllato dei droni anzi me ne sono arrivati due la settimana scorsa quindi questo più un altro quindi sto cercando ancora di prenderci la mano in ogni caso io mi diciamo mi adatto sul beginner quanto riguarda poi questi due tasti allora abbiamo questo tasto che serve per fare il flip 3D quindi comincerà a fare queste giravolte quest'altro tasto invece è il back to home ossia quando noi andiamo a premere questo tasto ovunque il nostro drone sia tornerà indietro verso il telecomando una volta raggiunto il telecomando rimarrà sospeso ad aspettare che noi andiamo a prenderlo allora adesso vi faccio vedere come si calibra il nostro drone allora per prima cosa dovevamo accendere il drone e ce l'abbiamo acceso andiamo ad accendere il telecomando allora nel telecomando adesso ci facciamo due risate vorrei mostrarvelo ecco qui allora abbiamo innanzitutto mod 2 i mod sarebbero il tipo di comando quello che vi dicevo prima cioè beginner intermediate advanced abbiamo in realtà fino a 4 mod fino a 4 tipi di velocità a cui il drone può andare e io ho mod 2 ho impostato allora per quanto riguarda invece queste due assi queste qui e queste qua sotto sono i dimmer che avevamo visto prima c'è questo 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 e questo questi qui ci consentiranno di regolare eventuali diciamo diciamo sfasamenti nella nella calibrazione infatti vedete che io ho una tacchina da un lato e una tacchina dall'altro perché l'ho già sistemato questo questa sferetta al centro indica il mod in base a come premiamo vedete cambia qui e poi niente questo ci dà il canale una volta che è stato assegnato perché lo deve assegnare il canale qui ci indica lo stato della batteria del telecomando perché come immaginerete qui è presente la vite per aprire il vano del telecomando che va alimentato a mi sembra 4 batterie stilo dopo ve lo dico con certezza nella recensione scritta allora passiamo all'utilizzo pratico allora prima sopra e poi sotto ecco avete sentito questo bip vuol dire che ha agganciato vedete che si comincia ad accendere ragazzi fa fa una potenza pazzesca sentite proprio il vento che viene verso di voi guardate che roba vabbè va facciamo una prova in interni e poi andiamo a giocarci in esterno grazie a tutti